Ciao Massimo, io sono il salutatore, sono anch'io social, e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fans che ti seguono da sempre. Ciao fans! Mi raccomando, seguitemi sempre di più, aumentate, fate il fans a parole. Su Twitter, vero? Twitter, Twitter. E anche Facebook, lo dizzi? Anche Facebook. Anche Facebook. E ricordiamo che il primo dicembre è un Natale al Sud. Andate anche dopo il primo dicembre, due, tre, quattro, cinque, sei, fino a Natale. Tutte le feste fino alla Bevana. Tutte le feste fino alla Bevana. Ecco, vediamolo, e io ho una sorpresa per te, perché tu sei un grande e ti metti la manina del salutatore. Ciao! Grande Massimo Bolli, il salutatore. Ciao. Ciao, ciao.